40 anni dunque io ho portato le nipoti qui sopra che avevano avevano 12 13 anni adesso le mie nipote ne hanno 43 pertanto 30 anni fa la città di novi ligure è felice e onorata di facilitare la visita al castello di concittadini che portano nel cuore il ricordo di un ambiente accogliente festoso contorno piacevole dei loro anni più belli cantore un attimo un attimo solo poi benzi un attimo un attimo un attimo un attimo ok e parole e parole e grazie però dove si parlano del castello perché ci sono il presidente dell'aula degli aviatori ha già 92 anni quando li ho visti ho detto ma sembrano troppo giovani da quello che mi avevi detto non si faccia sentire dall'imps benzi luciano e quanti anni ha 90 è più giovane lei era dipendente no no era lì proprio professionista no faceva gli sterei se non sbaglio gli impianti di riscaldamento gli impianti questo signore è imboccato lei è comunque sa bocca bruno lei quanti anni ha? 76 no lui non può è un giovane è un giovane cantore Stefano io sono un giovane cantore cantore Stefano lei ha quanti anni? eh sono solo 92 ma non ci posso credere no fra un mese sono 93 ah allora qui ci sono già degli invitati e lei cosa faceva? io ero un ex italcine e cosa vi ricordate del castello? io ero la gioventù la gioventù come mai? io vivevo si può dire che sono nato i miei galiufi vivevo in il castello e il castello è meglio qualche fidanzata? fidanzate tante ma allora ormai un mio figlio si resta con due ma ormai anche se ne con due non mi facciamo più no ma arrivare così sarebbe un sogno sarebbe un sogno io sconobbi qui la mia prima moglie vedi? cantava Johnny Torelli penso un po' a me vabbè allora ragazzi anche questo un libro un volume sui sui simboli di nove sui simboli di nove qui è un bel colpo d'occhio è bella è diventata bella non me lo ricordavo così però è bella quindi e qui ci Grazie a tutti.